I 51 ettari del Parco Laghetti di Martellago sono stati battuti palmo a palmo dai volontari della protezione civile accompagnati dal sindaco Andrea Saccarola impegnati nella ricerca di Luca Livieri, il 43enne scomparso di casa lunedì scorso. Mi sono sentito col coordinatore di protezione civile Cristiano Serena e abbiamo organizzato questa ricerca questa mattina qui dentro al Parco Laghetti e anche con i cani cinofili all'esterno sulle strade che ha percorso Luca in questi giorni. Siamo divisi in tre squadre distinte, un'unità a terra che fa un estrellamento puntuale, un'unità in volo con droni con l'utilizzo della termocamera per verificare la presenza nei posti in cui sono praticamente inaccessibili oppure con inquadrature dall'acqua per quanto riguarda la terra e un'unità cinofila che è in supporto ai carabinieri che serve una pista in cui è più investigativa. Al di là di Martellago le indagini sulla scomparsa di Luca Livieri sposato e padre di due figli sono condotti a tutto campo dai carabinieri, qui bisogna rivolgersi in caso di avvistamento. Quanto è grande questo parco? Una volta avete trovato addirittura una persona che viveva qui da te. È mezzo chilometro quadrato quindi è molto grande e sì più o meno un anno e mezzo fa mi ho trovato una canadese dove una persona ha alloggiato per quasi più di un anno che poi abbiamo scoperto all'interno di questo parco. Quindi la mia idea era di fare un controllo a 360 gradi insieme alla protezione civile e insieme anche ai droni per capire se magari fosse Luca in qualche boschetto qui del parco Laghetti.